Il concetto della sostenibilità delle imprese è il core business di Etica, che è società di gestione del risparmio. Quindi chiamerei Alessandra Viscovi, che viene qui e vi mostrerà delle slide. Grazie. Grazie davvero anche per l'invito. Grazie anche a Davide Dalmaso, che ha fatto un'introduzione molto importante su quella che è oggi la finanza sostenibile. Siamo qui per dimostrare che è possibile cambiare. Quindi siamo un esempio di una, ormai non più, ma siamo state una start-up assolutamente innovativa nel mondo della finanza. e cercherò di spiegare brevemente su quali basi abbiamo voluto porre il cambiamento. Innanzitutto, finanza etica, finanza sostenibile non vuol dire fare beneficenza, ma vuol dire imparare a scegliere bene dove allocare i propri risparmi. Etica SGR nasce quindi per contrastare una modalità di fare finanza che era la finanza, ed è tuttora la finanza speculativa, la finanza che non guarda agli impatti sociali e ambientali, ma è una finanza meramente speculativa. E quindi, partendo un po' dalle premesse di questa giornata mondiale per l'ambiente, riprendo il filone di cui si citava prima, si diceva lo sviluppo industriale, ha creato disastri ecologici e cambiamenti climatici senza precedenti. Ed è subentrata la economia casinò, e io dico la finanza casinò, che scommette senza assumersi responsabilità. Proprio questo è il punto, la responsabilità. Allora, che responsabilità ha un gestore finanziario nel momento in cui appunto gestisce i soldi generalmente di altri? La responsabilità che attualmente la finanza tradizionale si dà è quella esclusivamente del rendimento. Etica SGR punta a far capire che questo non basta, la vera responsabilità del gestore deve andare molto oltre. E in particolare, adesso scusate, cerco di capire le freccette, ok, è quella proprio di sensibilizzare il pubblico e gli operatori finanziari nei confronti della responsabilità sociale d'impresa e fare delle scelte che puntino proprio ad analizzare gli emittenti, le aziende, attraverso un occhio diverso. Quindi non guardo esclusivamente il bilancio finanziario dell'impresa per fare delle scelte, ma guardo a quelle che sono le rendicontazioni sociali e ambientali di questa impresa. Guardo cioè la parte che adesso sta crescendo in maniera veramente importante, è appena uscita anche una direttiva della Comunità Europea che imporrà a oltre 6.000 aziende europee una rendicontazione socioambientale, perché per me è più importante questo aspetto. Poi ovviamente c'è anche l'aspetto finanziario che non devo assolutamente trascurare, perché come dicevamo prima, la finanza non è fare beneficenza ma è dare rendimenti interessanti e equi ai nostri sottoscrittori. La crisi economica quindi per noi ha favorito la nostra crescita, ha favorito la nostra crescita che soprattutto siamo nati nel 2000, nel 2006 l'azienda è andata inutile, quindi è riuscita a recuperare quella sostenibilità economica che è essenziale in tutti coloro che si propongono di lanciare delle iniziative. Quindi non si può pensare a una sussidiarietà continua, ci sono stati degli investitori intelligenti e lungimiranti che hanno scommesso sulla nostra azienda, ma poi a un certo punto dopo 5 anni questi investitori giustamente hanno visto il frutto del loro investimento perché siamo riusciti a riportare inutile l'azienda e da adesso ovviamente da quel momento, dal 2006, l'azienda è sempre stata inutile e continua a fare profitto. Questo lo dico perché è un punto essenziale quando si parla appunto di start-up, quindi poter avere anche una visione che porti ad un certo punto ad arrivare ad un ritorno economico importante. Un'altra cosa importante, noi come facciamo le nostre scelte? Le facciamo proprio applicando, come vi dicevo, una rigorosa selezione basata sull'analisi delle aziende e basata quindi su criteri socioambientali. Questi processi di analisi e di investimento sono basati soprattutto sull'indicatori sociali e ambientali. Abbiamo al nostro interno un team che è cresciuto con noi, adesso sono quattro analisti specializzati sulle tematiche della governance, del buon governo, degli impatti sociali e ambientali. Siamo un'azienda italiana fatta di soci italiani e che punta anche al mercato italiano ovviamente. dialoghiamo direttamente con le aziende quotate e vediamo nello specifico quali sono i criteri che ci siamo dati. Abbiamo detto che l'importante è saper scegliere, darsi quindi una metodologia e per noi, adesso ho evidenziato in verde quelli che sono i criteri che più attengono all'ambiente, non entrano nei nostri investimenti imprese che violano gravemente la convenzione internazionale sulla biodiversità e sull'inquinamento ambientale. Non entrano aziende che possiedono o gestiscono centrali nucleari, non entrano aziende che modificano in maniera importante, quindi tutte le aziende di OGM, coloro che producono pesticidi, coloro che utilizzano o commercializzano legname proveniente da foreste protette e quindi abbiamo tutta una serie di criteri che noi chiamiamo negativi, quindi di esclusione, che fanno da filtro per i nostri investimenti. Questo per noi è una modalità molto concreta per far capire verso che cosa siamo orientati. Il nostro Comitato Etico, che è un organismo indipendente che ovviamente valuta tutte quelle che sono le imprese nelle quali andiamo ad investire, ha addirittura sospeso interi settori merceologici come il settore minerario, il settore del petrolifero per gli impatti ambientali e il settore finanziario. Quindi potete capire come le scelte direi veramente coraggiosi che sono state portate avanti finora da Etica SGR hanno voluto dare anche una linea guida a quello che è il mondo della finanza in generale, quindi far capire che è possibile cambiare, è possibile cambiare in maniera importante con un'attenzione particolare anche al ritorno degli investimenti. Dopo questa valutazione così impegnativa da un punto di vista di criteri negativi, abbiamo invece una valutazione positiva e quindi di scelta delle migliori aziende che entreranno a far parte del nostro target investibile, che sono anche qui, abbiamo utilizzato e stiamo utilizzando 65 indicatori e in relazione all'ambiente quindi andiamo a vedere quelle aziende che utilizzano e che usano e fanno delle certificazioni ambientali, dell'uso efficiente dell'energia, i prodotti con impatto positivo sull'ambiente, se fanno o meno una rendicontazione ambientale, questo è oggetto di dialogo continuo con le imprese, soprattutto con quelle italiane e spingiamo le aziende tramite appunto l'azionariato attivo a rendicontare i propri stakeholder proprio su queste tematiche. L'azionariato attivo vi diceva una pratica che abbiamo introdotto in Italia da alcuni anni, dal 2005, significa proprio un dialogo, un dialogo con le imprese affinché queste imprese, essendo noi investitori diretti di queste imprese, rendicontino su queste tematiche così importanti. Nello stesso tempo è anche un aiuto all'impresa perché diamo dei segnali di attenzione su tematiche che a volte gli azionisti di cui non tengono conto. Etica SGR ovviamente per fare questo appartiene e fa parte di network importanti come ICCR, che è Interface Center for Corporate Responsibility e il Carbon Disclosure Project, un altro progetto molto importante e diciamo tiene conto nel dialogo anche di altri fattori ambientali importanti come una gestione responsabile dei rifiuti, una gestione delle risorse idriche. Stiamo attenti anche alle remunerazioni dei manager e in particolare chiediamo che queste siano anche legate a indicatori socioambientali. Non basta. Abbiamo anche attenzione alle piccole imprese, alle imprese che nascono, e in particolare sul territorio italiano. Abbiamo creato un fondo di microcredito, un fondo di garanzia che viene utilizzato da Banca Etica per erogare progetti di microcredito in Italia. Questo fondo è alimentato attraverso una devoluzione volontaria dei sottoscrittori dei nostri fondi comuni. Un euro ogni mille viene versato a questo fondo. Questo fondo ora ammonta circa un milione di euro e in questi 14 anni sono stati praticamente finanziate oltre 251 iniziative. Mi piace dire che oltre il 70% di queste iniziative è di carattere diciamo microcredito imprenditoriale e capitalizzazione di cooperative, quindi non esclusivamente socioassistenziale. Il microcredito socioassistenziale pesa per il 31%. Vorrei chiudere con una attività, con una esperienza simpatica che coniuga un po' quello che diceva prima il Dottor Ronchi, cioè cultura, natura e manifattura. In Italia appunto l'esempio di un'azienda, Biosicili, una cooperativa siciliana che lavora alla ricerca di nuovi canali per la commercializzazione e lo sviluppo di produzioni biologiche locali è nata nel 2008 dalla fantasia e dall'idea di tre imprenditori, tre giovani ragazzi laureati in economia che non trovavano banche disposte a finanziarli. Ebbene Banca Etica ha dato loro un microcredito sostenuto dal nostro fondo di garanzia di 30.000 euro e grazie a questo fondo questi ragazzi hanno iniziato un'attività che tuttora continua ed è proprio esportazione, consulenza multimediale ai produttori e turismo responsabile. Quindi è un'iniziativa concreta con la quale appunto, dove ovviamente l'aspetto etico deriva dal fatto che aderiscono a Dio Pizzo e si basa ovviamente su principi etici anche nella scelta dei fornitori e sull'attività della bioagricoltura. Concludendo, vorrei che appunto rimanesse abbastanza chiaro questo concetto è possibile cambiare, si può cambiare, noi ne siamo un esempio ovviamente non dobbiamo aspettare che siano i grandi investitori a farlo ma io credo che la finanza responsabile non è più una sfida pioneristica ma una realtà concreta e un'opportunità. Ciascuno di noi con le sue scelte quotidiane anche di risparmio può fare la differenza per cui quello che io mi auguro è davvero che anche attraverso un esempio come quello appunto di cui oggi abbiamo parlato in questa giornata mondiale dell'ambiente si riesca a capire che la differenza la possiamo fare noi ciascuno di noi attraverso le proprie scelte, i propri gesti quotidiani ripeto, anche di risparmio. Grazie.